Il 2023 è stato un anno rivoluzionario per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, tanto che sono nati diversi chatbot, chat GPT, Google Bard e altrettanti Microsoft Co-Pilot, come peraltro un sacco di altri strumenti. E gli strumenti già esistenti, automazioni, scrittura, messaggistica, hanno deciso di integrare dei chatbot, tra virgolette, interni, all'interno dei propri strumenti, proprio per cavalcare l'onda dell'intelligenza artificiale e in qualche maniera del machine learning che sempre di più si sta espandendo. A tutta questa barahonda di strumenti che diventano AI-powered si aggiunge anche Zapier che nelle sue ultimissime versioni, all'incirca da un mesetto se non erro, ha integrato una serie di funzionalità legate all'AI, in particolare la creazione, la modifica e la rielaborazione di input o in generale di dati all'interno dei propri flussi di automazione, chiamati Zap, per andare appunto a semplificare il lavoro di chi dall'altra parte sta creando l'automazione. Permettetemi una digressione brevissima. Che cos'è Zapier? Uno strumento di automazioni, non sto qui a parlarne troppo. Sapete, il canale parla soltanto di questo, quindi non poteva essere altro che in maniera molto semplice e basilare ci permette di prendere due applicazioni, ipotizziamo Gmail e Google Drive, ed andare a unirle insieme. Quando mi arriva una mail che contiene degli allegati da Gmail, vami ad inserire l'allegato su Google Drive in una specifica cartella. Questo è ciò che fa Zapier, come tanti altri strumenti di automazione. Zapier però, a differenza di tutti gli altri, perlomeno per ora, come vi ho già anticipato, ha integrato questi aiuti, tra virgolette, gestiti dall'intelligenza artificiale, interni. Quindi non si affida a strumenti come ChatGPT o come, che ne so io, Microsoft Co-Pilot, ma ha creato una vera e propria intelligenza artificiale interna. Ovviamente basandosi in questo caso su dei modelli simili a quelli di OpenAI, e Microsoft ve lo ripeto, ma leggermente diversi e chiaramente tarati per essere inseriti all'interno di questo strumento. Una sola cosa che è specifico, esistono sia questo genere di aiuti, quindi dal punto di vista interno, che vedremo tra qualche istante, sia l'integrazione con le app. ChatGPT ovviamente è la più famosa, ma anche OpenAI in generale, e quindi strumenti ad esempio di generazione di immagini, come può essere da lì in questo caso. Spesso però questa è una limitazione, che perlomeno in questa fase beta del piano sta effettivamente entrata in vigore, e cioè che tutto ciò, in particolare questi aiuti AI interni, sono disponibili solamente a chi possiede il piano premium di Zapier, quindi una versione a pagamento dello strumento. Probabilmente in futuro tutto ciò verrà reso disponibile anche a chi possiede il piano free, ma per ora non ne sono certo. In questo video ci concentreremo solo sugli ausili interni, che sono prima di tutto una AI per creare l'automazione partendo da zero, quindi uno Zap, andando semplicemente a chiedere all'interno di un campo di testo, sostanzialmente, che genere di automazione vogliamo creare. Vi faccio vedere una breve clip dimostrativa, in maniera tale da farvi comprendere meglio di cosa si tratta. È molto semplice farlo, come già detto dalla home di Zapier, basta andare all'interno della dashboard e inserire all'interno di questo campo l'automazione che vogliamo andare a realizzare. In questo caso la lingua supportata è soltanto l'inglese, perlomeno in questa fase beta, che come vedete è presente qui come etichetta e anche in tutte le altre feature AI che andremo a vedere tra qualche istante. Pertanto dobbiamo andare ovviamente a sapere l'inglese, nel caso in cui non lo sappiate utilizzate semplicemente Google Traduttore, e valutiamo in questo caso di creare un'automazione che prenda degli allegati da Drive e li mandi via mail. Ipotizziamo che ciò debba avvenire ogni giorno, quindi ogni giorno prendi degli allegati da Drive, ovviamente dobbiamo specificare i nomi dei servizi, quindi from Google Drive, and send them, tramite Gmail, perfetto, quindi sostanzialmente prendili da Google Drive e inviali via mail ogni giorno, come vedete. Ora lui, come vedete, ci ha creato la nostra automazione, send daily attachments from Google Drive via Gmail, ok, perfetto. Andiamo a cliccare sul tasto try, e ora, come tutte le automazioni, anche quelle create senza passare dall'AI, si aprirà questa interfaccia in stile diagramma di flusso, per andare a configurare, in questo caso, l'account Google Drive, e poi l'account di Gmail. Attenzione qui che ha commesso un errore, come vedete. In particolare, ha inserito come trigger quando un nuovo allegato è inserito in Google Drive. Io specificatamente gli avevo chiesto di farmelo ogni giorno, quindi senza dipendere dalla presenza o meno di allegati in Google Drive. Come vedete, qui ha sbagliato, effettivamente. Ma potremmo in ogni momento andare a correggere, ovviamente. Quindi l'opera dell'AI non è vincolante, poi, per lo sviluppo dell'automazione. Da questo momento in poi, potete modificarla, come ve l'ho già detto, come se fosse una normalissima automazione, un normale zap, e andare quindi ad integrarlo, con l'unica differenza che avrete effettivamente utilizzato l'AI per creare perlomeno la base, quella che è la bozza, del vostro zap. Quindi l'avete vista? È semplicemente una richiesta da effettuare in testo semplice. Veramente molto, molto basilare. Punto secondo, abbiamo l'AI per chiedere di aggiungere un'azione di modifica. Vi faccio un esempio, la formattazione di una variabile. Quindi andare a prendere, ad esempio, una variabile che ci è arrivata in input, ipotizziamo, che ne so io, anche qui di avere una mail che ci arriva, vogliamo prendere la data e l'ora di arrivo, insomma, di ricezione della mail, e andare a convertirla soltanto in ora. Quindi spostandoci sostanzialmente da un campo data e ora completa a un campo soltanto ora. Possiamo farlo manualmente, ma possiamo anche farlo con l'AI. Anche qui abbiamo la clip che vedete. E così capiamo anche come fare questo genere di modifiche. In questo esempio abbiamo uno zap molto semplice che va a prendere una record presente in Airtable e quindi ne ottiene una serie di informazioni contenute all'interno di essa e va a riportarle in una maniera che ora andremo a definire all'interno di Gmail. La particolarità è la possibilità di modificare le variabili tramite AI. Ipotizziamo, ad esempio, che io voglia modificare la data di creazione e fare in modo che non venga visualizzata come questa stringa presa poco illegibile ma che venga visualizzata con il classico stile europeo quindi giorno, mese, anno. Per farlo potrei andare ad utilizzare cliccando qui sul tastino più il modulo Format che in questo caso va a modificare la formatazione dei dati in input. In questo caso io non voglio farlo manualmente ma voglio chiedere all'AI di farlo al posto mio. Pertanto andiamo di nuovo qui all'interno del corpo e prendiamo la data di creazione e clicchiamo su Format Data. A questo punto andiamo ad inserire il formato che vogliamo ottenere come risultato quindi giorno, mese, anno e clicchiamo su Create Step. In questo caso l'AI non deve lavorare molto perché gli abbiamo già fornito sostanzialmente il codice ma potremmo valutare anzi adesso lo facciamo questi sono proprio dei test estemporanei per capire quanto è intelligente potremmo andare a dirgli magari ok e scriviamo European Format anzi European Layout ok così forse lo capisce meglio European Layout vediamo che cosa ci tira fuori se in questo caso ci fornisce la data corretta o meno vediamo un po' Change Date to European Layout vediamo un po' se ce lo dà in formato giusto To Format giorno, mese, anno perfetto ci è stata convertita in questo caso la data correttamente anche utilizzando un linguaggio tra virgolette naturale e non fornendogli il codice in questa maniera pertanto ci verrà automaticamente convertita in questo caso la data e inserito poi l'output di questo modulo di formattazione all'interno del campo che avevamo selezionato in partenza l'avete visto veramente super intuitivo un semplice tastino modifica con il loghetto dell'AI e andate ad integrare tutto ciò che volete anche in formato testo semplice avete visto abbiamo scritto European Time e lui è andato a formattarci in questo caso la data secondo il layout europeo dopodichè arriviamo al terzo punto e cioè una AI generica tra virgolette per fare cose quindi analizzare dati carpire delle informazioni da un testo libero ad esempio nome, cognome, data di nascita codice fiscale che ne so io e andare a gestire una serie di messaggi facendo seguire specifici iter lo capirete meglio tra qualche istante sapete soltanto per ora che è molto banalmente una AI interna quindi andate ad inserirla come un semplice modulo scrivete AI by Zapier e vi verrà fornito in questo caso il modulo per integrare questo genere di azioni anche qui vediamo la clip per capire meglio di che si tratta all'interno dell'elenco è tra le prime scelte e la distinguerete da tutte le altre perché è disponibile soltanto per il piano premium e questa è una limitazione che non so se verrà modificata prima o poi ma che per ora ci costringe in questo caso a sottoscrivere un piano a pagamento del servizio come vedete abbiamo un bel po' di AI diverse per fare cose diverse vediamo un po' se ne trovo qualcuna da qualche parte ci dovrebbe anche essere OpenAI oltre che un sacco di altri strumenti Browse AI sta diventando molto famosa concentriamoci sull'AI di Zapier che come vi dicevo è disponibile solo per i premium e che ci permette di fare tre cose in particolare la prima cosa è andare a formattare sostanzialmente una serie di dati partendo da un testo semplice quindi andando praticamente a prendere dei dati ipotizziamo di avere un testo del tipo ciao sono Mario Rossi sono nato a Roma il 15 marzo del 1944 e ho 65 anni non so se il calcolo sia giusto vi dirò la verità anzi ne dubito fortemente in questo caso utilizzando questo modulo potremmo andare a dire a Airtable guarda prendimi un testo di Freeform insomma aspettati di ottenere questi dati una volta che li hai ottenuti vammeli a scrivere in una specifica maniera molto banalmente anche qui gli dobbiamo fornire 5 esempi in questo caso per andare a istruire l'AI e per farla lavorare correttamente questo è proprio il concetto base di AI andare ad inserire un testo in input che potrebbe essere appunto ciao sono Mario Rossi e dirgli guarda mi aspetto no dove ok eccolo qui esempio 1 mi aspetto di trovare il nome che contiene questa cosa qua il cognome che contiene questa cosa qua e avanti così praticamente quindi capite che tramite questi esempi andiamo a istruire l'AI a lavorare correttamente torniamo all'interno degli eventi perché ne abbiamo altri due e cioè andare anche in questo caso a modificare chiedo scusa a formattare i dati presenti in un testo libero la differenza qui sta nel fatto che abbiamo ecco vedete nome cognome email numero di telefono indirizzo eccetera insomma che praticamente ci permette di ve lo faccio vedere e soprattutto vi illustro la differenza ci permette di farlo senza però avere gli esempi quindi potremmo definirlo in questo caso come un modulo che ci consente più libertà praticamente perché se negli esempi che abbiamo messo non c'è mai il codice fiscale e poi nel testo che gli diamo che magari proviene che ne so io da Airtable o da Gmail il codice fiscale c'è ecco che in questo caso Zapier va in confusione e non riesce a capire che il codice fiscale corrisponde a quella specifica serie alfanumerica utilizzando invece quest'altro modulo quindi lead free form text senza any data abbiamo sostanzialmente più libertà e più apertura infine abbiamo praticamente la creazione di una chat a quanto ho capito questa vi dirò la verità non l'ho provata quindi la scopriamo insieme va praticamente ad ottenere un messaggio e a inoltrarlo direi in questo caso a delle specifiche persone a un gruppo o a un ufficio in base sostanzialmente a quelle che sono le condizioni quindi lui va a leggere il messaggio e dice se il messaggio è scritto magari con un certo tono potrebbe riferirsi al capo se è scritto in un'altra maniera magari si riferisce a una persona di livello inferiore e avanti così andando praticamente a determinare quello che è in questo caso un percorso che il messaggio deve seguire nel suo inoltre questa è l'AI di Zapier come vi ho già detto prima oltre a tutto ciò se andiamo a cercare OpenAI o forse ChatGPT no ok eccoci qui OpenAI GPT3 ecco che avremo direttamente accesso a quella che è l'AI e il chatbot più famoso sulla faccia della terra vedete che abbiamo anche ChatGPT direttamente vi dirò la verità non so quale sia la differenza magari ci farò un video dedicato l'avete visto per ora è disponibile soltanto in inglese non mi sono spiegato molto bene prima ma ad ogni modo avete capito cosa ci permette di fare per ora sono soltanto tre le funzionalità disponibili ma sicuramente verranno implementate con il passare del tempo altrimenti se non le trovate ve lo ripeto un'altra volta potete utilizzare strumenti come ChatGPT come OpenAI in generale e una serie di altri chatbot molto interessanti integrabili all'interno di Zapier con i quali potete effettuare in questo caso delle richieste e ottenere delle risposte insomma degli output sotto forma di variabili che poi di conseguenza diventano anche utilizzabili all'interno di altre azioni ipotizziamo di voler rendere per esempio ChatGPT molto più fruibile e di integrarlo con un bot Telegram bene possiamo andare a fare tutto ciò utilizzando Zapier otteniamo un messaggio andiamo a prendere in questo caso la domanda cioè il contenuto del messaggio molto banalmente lo mandiamo a ChatGPT ChatGPT ci dà la risposta e dopodiché noi la inoltriamo nuovamente all'interno del bot Telegram in maniera veramente semplicissima queste sono le novità in campo AI di Zapier mi aspetto un miglioramento costante e continuo perché soprattutto nell'ultimo periodo Zapier ha deciso di integrare molte funzionalità una devo dire più particolare dell'altra veramente sono in tutti i casi molto interessanti e aprono la strada diciamo ad un'ascesa di Zapier e perché no in futuro magari anche al sorpasso da parte di quest'ultima in confronto a Make che invece è abbastanza statica in questo periodo non sta integrando particolari funzionalità magari in futuro questo trend verrà ribaltato io mi aspetto e spero con tutto me stesso un miglioramento per quanto riguarda proprio Make all'interno proprio del campo AI e in generale di tutta questa rivoluzione che si sta attuando ma per ora Zapier ha lavorato molto bene dunque queste sono le novità e io vi invito a segnalarmi nei commenti perché no magari qualche altro servizio di automazione che integra l'AI o magari se nel frattempo se magari state seguendo questo video qualche mese dopo la sua pubblicazione qualche novità che avete visto anche in campo Zapier se lo utilizzate quotidianamente o perché no su Make e quant'altro dunque grazie per aver seguito fino a qui il video e un appuntamento alla prossima ciao ciao